Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Giorgio e in questo tutorial su Prusa Slicer impareremo cosa sono le istanze, come utilizzarle e la funzione per disporre gli oggetti nel nostro piano di stampa. Per prima cosa ovviamente dobbiamo importare un oggetto, un file 3D. Una volta importato il mio oggetto lo vado a posizionare sul piano di stampa tramite la funzione posizione su faccia. In questo modo l'oggetto è posizionato nel modo corretto in cui lo voglio stampare. A questo punto voglio creare, mettiamo caso, 30 copie di questo oggetto. Abbiamo alcune opzioni per creare appunto 30 copie. Potremmo metterci qua e fare continuamente copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla, copia e incolla. Non è l'opzione più veloce e soprattutto non è l'opzione più intelligente che ci metta a disposizione Prusa Slicer. Infatti, selezionando l'oggetto e premendo il tasto destro, la prima voce in elenco è proprio Aggiungi Stanza. Raggiungibile tramite la scorciatoia da tastiera più o tramite il simbolo sempre Aggiungi Stanza che si trova nel menu dei comandi qua in alto. Ma cos'è un'istanza? Beh, per capirlo meglio proviamo a crearne una. Vediamo che una volta creata un'istanza ci apparirà una tendina. Quindi il nostro oggetto che avevamo importato, col suo nome, non è visto più come un unico oggetto ma diventerà il gruppo delle nostre istanze. Quindi abbiamo creato un gruppo col nome dell'oggetto al cui interno ci sono una serie di istanze che sono appunto proprio le copie dell'oggetto che avevamo importato. Questa cosa è molto utile perché prima di tutto abbiamo due comandi che ci permettono velocemente di creare addirittura di riempire il piano con le istanze. Quindi PrusaSlicer in automatico calcolerà il numero massimo di istanze, di pezzi che ci staranno all'interno del nostro piano di stampa. Oppure se vogliamo un numero specifico di copie possiamo utilizzare Imposta numero di istanze e possiamo impostare manualmente il numero di pezzi che ci servono. L'altro concetto da capire legato alle istanze è che l'istanza essendo un gruppo di oggetti ci permetterà di applicare una modifica che sarà applicata a tutti gli oggetti a differenza di quando invece creiamo delle copie. Quando invece creiamo una copia facendo banalmente copia e incolla vediamo che ci verranno creati due o più corpi separati. Ma se noi volessimo modificare qualcosa di questi oggetti andando su modifica ad esempio aggiungendo un modificatore di altezza verrà applicato solo a quell'oggetto. Tutti gli altri oggetti non saranno affetti dalle modifiche. La potenzialità di utilizzare le istanze è appunto che se noi andiamo a applicare la stessa modifica come vediamo verrà applicata a tutti gli oggetti che stanno all'interno dell'istanza. Invece adesso voglio farvi vedere come disporre gli oggetti nel piano. Ad esempio abbiamo creato queste istanze e queste copie dello stesso oggetto e proviamo anche a importare un altro file. Lo apriamo, lo spostiamo, utilizziamo il comando posiziona su faccia per orientarlo nel modo in cui lo vogliamo stampare e creiamo anche di questo un certo numero di stanze. A questo punto possiamo vedere che abbiamo creato tantissimi oggetti e andare a posizionarli nel piano di stampa sarebbe un po' noioso e una procedura un po' lunga e tortuosa ma PrusaSlicer ci mette a disposizione un comando che ci permette di disporre gli oggetti in un clic e il comando lo troviamo sempre nella barra in alto. Come vediamo passandoci sopra con la freccia del mouse abbiamo due opzioni, disponi o disponi selezione. La differenza è che premendo disponi tutti gli oggetti verranno disposti all'interno del piano di stampa nel modo più funzionale alla stampa finale e soprattutto al tempo di stampa perché verranno posizionati in modo da ridurre al minimo gli spostamenti inutili. Ma possiamo anche utilizzare l'altro strumento che è disponi selezione che ci permetterà di disporre solo gli oggetti selezionati. Quindi ad esempio selezioniamo il nostro gruppo istanza di questo oggetto qua e vediamo che per disporre la selezione dovremo premere Shift A. Possiamo notare che questi oggetti sono rimasti nella loro posizione iniziale mentre sono stati disposti solo gli altri oggetti. Questo comando può essere utile in determinati casi. Se io voglio disporre tutto premo comunque disponi e gli oggetti vengono ordinati nel modo corretto. Nel prossimo tutorial impareremo ad utilizzare gli oggetti multiparti. Se il video vi è piaciuto e l'avete trovato utile vi ricordo di iscrivervi e di condividere. Ciao e alla prossima!